In via Generale Cascino e in via Eberre manca sempre l'acqua, il residente, il Caltacqua, non ci dà spiegazioni. Licata, operazione pacchi.it, Caltanissetta in vendita, Anniscemi denunciata coppia di coniugi per truffa aggravata, 5,9 milioni di euro per impianti sportivi e spazi culturali, il Comune partecipa a Bando Europeo. Ci troviamo nel quartiere Santa Flavia, ci hanno chiamato i residenti di via Generale Cascino e via Colonnello Eberre, qui da quanto non arriva l'acqua? Allora, domenica doveva arrivare, da venerdì che è arrivata, domenica no, lunedì ce l'hanno dato uguale alla via Antonello da Messina solo per un paio di ore e poi è finita subito, quindi diciamo che anche lunedì è stato un boom un po' messo da parte per noi, ma da venerdì che noi non accediamo all'acqua, questa storia va avanti da anni e dal 2015 in particolare, in particolare dal 2015 dove siamo stati noi per un mese senza acqua, senza acqua ed è impossibile che la via Antonello da Messina ce l'ha. Quando aprono via Generale Cascino, la colonna salendo dalla Madonnina a destra, le parti basse a volte l'hanno avuta, mentre i palazzi alti dal 103, almeno dove abito io, dal 103 a Sant'Anna siamo rimasti perennemente sempre senza acqua, compresi quelli del lato sinistro. Signora, lei dove abita? Qui a Generale Cascino 84. Quindi senza acqua pure. Come si deve fare? Sempre in queste situazioni, c'è sempre, 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 non te ne puoi più e basta. Lei invece abita in via Colonello Eberre, mi diceva. Abito in via Colonello Eberre, praticamente dove c'è questo nucleo di casette e praticamente l'acqua viene, se viene, viene ogni settimana. Io mi voglio dire ai responsabili di calta acqua, a questi spagnoli, per quale motivo? La via parallela l'acqua ce l'ha e noi non ne abbiamo. Generale Cascino è la zona alta di via Colonello Eberre, tutta la via Colonello Eberre è senza acqua e questa non è una cosa grave. Abbiamo segnalato diverse volte, continuiamo a segnalare ma non si vede nessuno da parte di calta acqua per darci qualche spiegazione. Non sappiamo quello che fare, praticamente. Signora, lei mi diceva che suo marito ieri è andato da calta acqua. Con nessuna spiegazione. Anzi, a volte non lo fanno neanche entrare perché hanno paura perché a mio momento si deve ribellare. No, questa storia deve finire perché dal lato opposto c'è l'acqua e da noi no. Tutta calta nissetta c'è l'acqua. Bisogna che le tasse le paghiamo tutte uguali. Come pagano quelle di Centro Storico le paghiamo pure noi. Quindi non l'hanno ricevuta ieri? No, no. Sì, mi hanno fatto entrare, però nessuna spiegazione. Un motivo valido, se c'è ruttura, se c'è... niente. Un problema. Mi hanno... A lei invece cosa hanno detto? Allora, io ci sono andato un paio mesi fa e addirittura mi hanno detto se non ce ne vanno qua chiamiamo le carabiniere. Ma perché il motivo che noi quasi... queste sono cose da saltacqua. Voi non mi interessa. Come se aveva una settimana che mancava. Purtroppo è così. È quello che fa rabbia che l'altro lato, piazza della Messina, piazza Santa l'abbia. È la via della mente. La spiegazione non abbiamo niente e quando la mandano, la mandano un'ora, lente da noi che abitiamo là. C'hanno il motorino e gli altri se la prendono. Chi è che non ha il motorino? Io sono otto giorni che sono senza acqua. Come si deve fare così? I carabinieri della compagnia di Licata al termine di attività investigativa hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica nell'ambito dell'operazione denominata pacchi.it. L'indagine condotta dalla stazione Carabinieri di Licata e dal nucleo operativo e radiomobile del locale comando compagnia è frutto di mirati accertamenti relativi all'allarmante fenomeno delle truffe realizzate su piattaforma informatica dove si ha avuto modo di apprezzare come il fenomeno sia particolarmente radicato nel territorio licatese. Le indagini avviate nel 2016 a seguito di numerose denunce presentate in diverse parti d'Italia per truffe verificatesi sul web hanno permesso di identificare un gruppo di giovani i quali utilizzando piattaforme online come Subito.it, Autoscout, Kijiji, Ebay, Backeka.it inserivano delle offerte vantaggiose dopo aver ottenuto la caparra solitamente per cifre non superiori a 500 euro versate con bonifico online su carta prepagata di PostPay o altre carte virtuali facevano perdere le loro tracce. E' proprio in questo contesto che si è sviluppata l'attività investigativa che grazie all'analisi delle 33 denunce pervenute presso gli uffici della stazione Carabinieri di Licata ha consentito di identificare i soggetti coinvolti. Le attività tecniche delegate dell'autorità giudiziaria consistenti nell'acquisizione di tabulati telefonici, intercettazioni, perquisizioni e sequestri hanno consentito di acclarare l'esistenza di un sodalizio preordinato all'attuazione di un programma aperto avente ad oggetto la commissione di un numero indeterminato di delitti di truffa tramite inserzione di fraudolenti annunci di vendita sui siti e-commerce con a capo nelle vesti di promotore e organizzatore del sodalizio Cristoforo Famà, 35 anni, originario di Licata. Le risultanze delle indagini hanno consentito il deferimento all'autorità giudiziaria di sette persone responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alle truffe online con la successiva emissione da parte del GIP di sette misure cautelari di cui un'ordinanza applicativa di arresti domiciliari, 3 di obbligo di dimora e 3 di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Cristoforo Famà, 35 anni, sottoposto agli arresti domiciliari. PA, 40 anni Licatese, obbligo di dimora. CS, 29enne Licatese, obbligo di dimora. BA, 26enne Licatese, obbligo di dimora. TA, 47 anni Licatese, obbligo di presentazione. RG, 24 anni Licatese, obbligo di presentazione. GD, 40enne Licatese, obbligo di presentazione. Facendo un giro per Caltanissetta è impossibile non notare il cartello vendesi, non solo nelle case ma anche nei garage, nei locali commerciali. Con noi l'agente immobiliare Gioacchino Falletta. Ma ci sono veramente così tante case in vendita in città? Eh sì, essendoci i cartelli parlano chiaramente. Considerate che probabilmente c'è qualche casa in vendita in più rispetto ai cartelli che si vedono perché alcune persone preferiscono mantenere tra virgolette l'anonimato rispetto ai vicini sul fatto che stanno vendendo casa. e quindi il dato che salta agli occhi è probabilmente peggiore di quello reale, o meglio, è meno peggio di quello reale. Da quanto lei fa questo lavoro, diceva prima, non c'è mai stato un periodo così di tutte queste case in vendita? No, io lo faccio da quasi 15 anni, no, o meglio, è dal 2014 che aumentano sempre le proposte di vendita. Dato anche dovuto al fatto che negli anni precedenti queste vendite erano spalmate perché quando si metteva un bene in vendita a un prezzo equo si riusciva a venderlo. Oggi, con i prezzi che si sono abbassati prepotentamente, qua stiamo parlando di un ribasso anche del 40%, si hanno grosse difficoltà a riuscire a venderlo, per cui si accumulano i cartelli, si accumulano le proposte di vendita. Ma perché la gente vende? Qual è la percezione? Vende per andare via da Caltanissetta? Vende per andare in affitto? Perché? È un po' un insieme di cause che noi costatiamo da qua dentro. C'è chi ha fisicamente bisogno di soldi, per cui non può più mantenere la prima abitazione, preferisce andare in affitto e incassare liquidità. C'è chi ha più case e, vista la tassazione rispetto al possesso degli immobili, preferiscono liberarsene per non pagare più tasse. C'è chi vende perché rispetto alle esigenze familiari, per esempio è aumentato il nucleo familiare o qualcosa del genere, vendono, provano a vendere quello che hanno cercando un'abitazione più consona a quelle che sono le loro esigenze. E gente che va via? Ce n'è molta, ne sa? Molti vanno via, ma il paradosso è che non sono i giovani che vendono per andare via, il paradosso è che sono le persone più in lago gli anni che sono in pensione, i cui figli per lavorare sono dovuti andare via e quindi non avendo più nulla, magari hanno i nipotini piccoli e vorrebbero goderseli, non avendo più nessuna ragione, essendo in pensione per restare qui, vendono per poter avvicinarsi al nucleo familiare. E per quanto riguarda i locali commerciali? I locali commerciali il trend negativo è addirittura antecedente a quello degli immobili perché è iniziato diciamo intorno al 2009, 2008-2009, subito dopo il famoso crollo di Lehman Brothers. Considerate che fino al 2006-2007, faccio un esempio che rende l'idea su tutto, faccio un'altra parentesi, pure nella locazione dei locali commerciali i prezzi si sono abbassati il tratto di strada che va dal corso Vittorio Emanuele che da un punto di vista commerciale è sempre stato il ferro all'occhiello della città, diciamo da Club 70 fino alla piazza fino a Piazza Garibaldi, quando si liberava un locale era una gara a chi arrivava prima ad accaparrarselo, oggi se lei si fa una passeggiata ci sono 7-8 vetrine chiuse, cosa fino al 2008-2009 è impensabile, poi dal 2009 in poi, cominciata la famosa crisi e via discorrendo, c'è stata una grande emoria, fra le altre cose ci sono state moltissime meteore, c'è i locali che hanno aperto, sono durati meno di un anno e hanno richiuso. Abbiamo parlato quindi del perché la gente vende, ma c'è chi acquista? Allora, quello che è successo nell'acquisto, intanto si parla sostanzialmente di prima necessità, cioè acquista chi vuole comprare una casa per andarci a vivere. il 90% delle vendite, 90% già dire 90% significa che ci sono 100 vendite, è solo un termine per citare perché sono molto più basse le vendite, come numero totale di vendite, e comprano finalmente, hanno ricominciato a comprare con i prezzi abbassati, perché ci sono stati tre anni tremendi, che sono stati 2013, 2014 e 2015, in cui non tanto nel 2013 perché ancora le pretese dei venditori erano più simili a quelle del 2012, ma nel 2014 e 2015 già si era registrato il forte ribasso dei prezzi, ma non si vendeva lo stesso nulla. Io ci vedo pure molto panico, perché con tutto quello che si è sentito rispetto alla crisi, le persone si sono da un lato scoraggiate all'acquisto, dall'altro hanno voluto aspettare sperando che i prezzi si abbassassero ancora. Devo dire che nel 2017-2017 un cenno di ripresa c'è stato rispetto alle vendite, non rispetto ai prezzi delle case, ma rispetto con i prezzi così bassi alle vendite, perché prima era veramente una situazione disperata, soprattutto per noi che facciamo questo lavoro, perché proprio non si vendeva. I poliziotti del commissariato di Niscemi hanno denunciato in stato di libertà una coppia di catanesi, rispettivamente 24 anni e 26 anni, entrambi con precedenti di polizia, perché resisi responsabili del reato di truffa aggravata in concorso. Gli agenti della squadra investigativa in servizio di controllo del territorio, nei pressi di Largo Mascione, hanno notato una donna che chiedeva delle offerte in denaro ai passanti. Insospettiti dall'atteggiamento guardingo della donna, i poliziotti l'hanno sottoposta a controllo. Dopo aver chiesto spiegazioni in merito alla raccolta di denaro che stava effettuando lungo le vie cittadine di Niscemi, la donna ha riferito di raccogliere fondi per conto di una on-loose al fine di aiutare bambini bisognosi e gravemente malati, addirittura invitando anche i poliziotti ad offrire una somma di denaro. La donna conferma di quanto sostenuto, ha mostrato agli agenti un cartello riportante le effigie di un bambino con problemi di salute e con suscritto un aiuto. Da un controllo eseguito dai poliziotti, l'associazione non opera da più di due anni e non alcun referente per la Sicilia. Alla donna condotta presso gli uffici del commissariato sono stati sequestrati 55 euro in monete di vario taglio e la stessa, una volta messa davanti le proprie responsabilità, ha confessato agli agenti di essere arrivata a Niscemi accompagnata dal marito per racimolare qualche soldo ingannando gli ignari passanti e spacciandosi per volontaria dell'associazione. I due coniugi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria competente per il reato di truffa gravata in concorso. Il comune di Caltanissetta parteciperà ad un bando europeo per un finanziamento di 5,9 milioni di euro. Il bando scade il 15 agosto. L'amministrazione comunale e in particolare l'assessore Carlo Campione, l'assessore Giuseppe Tuminelli e l'assessore Graziella Riggi hanno incontrato due consulte cittadine ai comitati di quartiere perché il bando riguarda gli impianti sportivi e beni culturali. Quindi avete voluto coinvolgere i cittadini parlando appunto di partecipazione come è stato fatto in campagna elettorale nel corso della vostra amministrazione. Sì, ecco, ma lo sforzo finalmente comincia ad avere dei risultati. Fin da sempre noi ci siamo attivati per mettere in moto una macchina che non conosceva questa metodologia, la metodologia della partecipazione. All'ultimo siamo arrivati proprio quasi ad essere derisi su questo nome, però veramente noi ci abbiamo sempre creduto. Coinvolgimento della città significa passo dopo passo riuscire a coinvolgere i cittadini per garantire quel senso di appartenenza che i cittadini devono avere nella gestione della cosa pubblica. Stiamo cominciando a fare ora, ora che esistono le consulte, nel caso specifico l'abbiamo fatto con il bando che scade nel 15 agosto, con dei progetti che noi già abbiamo pronti, però è giusto coinvolgere i cittadini perché tante altre idee possono venire. Abbiamo fatto delle proposte, a cominciare dal famoso piaggio all'aperto degli angeli, cosa che già avevamo detto ai tempi, oppure dalla ristrutturazione del Michel Abbate e così via, però al di là di questo è importante che i cittadini abbiano altre idee. Le hanno avute, infatti noi ci rivedremo la prossima settimana dopo che i presidenti delle consulte, i comunitati di quartiere si riuniranno per i fatti loro e verranno con altre proposte. E quali sono le proposte finora fatte quindi per spendere questi 5,9 milioni di anni? Le proposte sono soltanto quelle dell'amministrazione. Ora, vediamo se ci sono altre proposte. Proprio stamattina io ho parlato con una società sportiva che ribadiva l'importanza di intervenire sul Michele Amari, sul via portale della Ginestre, che è un bellissimo impianto che però non è messo in sicurezza. Anche questa è un'idea che non abbiamo preso in considerazione e che dovremmo prendere in considerazione. Ecco, si tratta di coinvolgere proprio la cittadinanza. Quindi, riassumento, le vostre idee sono il teatro all'aperto al quartiere Angeli, la ristrutturazione del Michele Abbate e poi... Il vento, per esempio, in via Redentore, tra via questa ferro, poi per esempio il rivedere l'attività da svolgere nei confronti di tutta l'impiantistica di quartiere. Faccio un esempio ancora tra tanti, che può essere il cambezzo di via Dalmazia, che sta cercando di recuperare tramite proprio l'attività di alcuni cittadini la funzionalità. Ecco, e pure alcuni luoghi che riguardano gli ACP. Ci sono, per esempio, la famosa villetta di via Bistolati. Ci sono tanti progetti che noi abbiamo in itinere, però vogliamo confrontarci con la città. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, a conclusione di indagini svolte in relazione alla denuncia asporta da un imprenditore del luogo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato PR 42 anni di Favara. In particolare i militari hanno accertato che la donna, addetta alle pulizie presso l'abitazione del denunciante, sia introdotta nell'ufficio della vittima, asportando una banconota da 50 euro, poi rinvenuta dai carabinieri nella sua borsa durante la perquisizione. Inoltre, presso una rivendita di compro oro di Favara, sono stati recuperati alcuni monili in oro del valore di alcune centinaia di euro, versati dietro compenso nei giorni scorsi dalla donna e riconosciuti come propri dalla consorte dell'imprenditore. L'arrestata, dopo le formalità di rito, è stata sottoposta agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Gela hanno tratto in arresto Samuele Camilleri, 26 anni, gelese, in esecuzione di ordine di carcerazione della procura di Gela per furto. Il giovane all'epoca amminorenne fu scoperto nel 2008 dai militari dell'arma a commettere il furto di un ciclomotore a Gela. Dovrà scontare la pena di sei mesi presso la casa circondariale di Gela, dove è stato tradotto nel pomeriggio di ieri su disposizione dell'autorità giudiziaria per i minorenni di Caltanissetta. I carabinieri della stazione di Gela hanno sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Un uomo gelese di 42 anni, autore di diversi episodi che hanno configurato il reato di atti persecutori a danno della sua ex convivente. La situazione di drammatica ansia che colpisce la giovane donna ex convivente con l'indagato inizia nel marzo di quest'anno, con numerosi danneggiamenti, pedinamenti ossessivi e condotte minacciose ai danni della stessa da parte dell'uomo non rassegnatosi alla fine della loro storia. La donna poche settimane fa ha trovato il coraggio di rivolgersi all'arma dei carabinieri che con la professionalità e delicatezza del comandante della stazione e del personale specializzato hanno accolto la giovane e l'hanno condotta a svolgere tutte le ingompenze necessarie informandola delle garanzie e tutele di legge, nonché dell'assistenza fornita dalle istituzioni e dai centri antiviolenza presenti sul territorio. L'attività investigativa svolta dai carabinieri ha trovato piena rispondenza nella richiesta formulata dalla procura di Gela al locale giudice per le indagini preliminari, che ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e seguito dagli uomini dell'arma. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!